Ok, è il momento di preparare la vostra presentazione. Ci sono due domande fondamentali alle quali dovete dare una risposta. Quando qualcuno mi chiede di aiutarli nel preparare una presentazione, io inizio sempre chiedendo questo. Qual è esattamente il messaggio che volete trasmettere? Cosa volete che le persone presenti portino a casa con loro? Se non è chiaro a voi, sicuramente non lo potrà essere a loro. È importante che siano delle frasi semplici da comprendere. Ad esempio, vorrei che il pubblico, una volta terminata la presentazione, prima di effettuare qualunque spesa, controllasse che ci fosse un budget allocato per quella. Oppure, vorrei che il pubblico fosse d'accordo che la nostra soluzione è la migliore fra quelle quattro proposte perché è quella che ha l'impatto minore sulla situazione ambientale. Questi sono esempi di messaggi chiari che il pubblico può portare a casa.